Salve a tutti ragazzi, questa sera vorrei trattare un tema molto veloce, in onore, facendo un video in onore di quello che è stato l'astrofisico che fino a stamattina era tra noi, ovvero sia Steve Hawking. Lo faccio nonostante io non abbia mai seguito fondamentalmente quelle che sono state le sue ricerche, cioè conoscevo il personaggio pubblico che era ma senza approfondire la questione, quindi non lo faccio dal momento in cui mi ritengo un suo fan o un ammiratore ma semplicemente perché mi sembrava giusto ricordare quello che è stato l'insegnamento maggiore, ancora prima che culturale, a livello umano che quest'uomo ha voluto lasciarci, ovvero sia che anche nelle difficoltà maggiori, anche nei momenti più bui, anche nelle condizioni di impossibilità di muoversi sia fisicamente, dal momento in cui soffriva di una brutta malattia, sia magari in situazioni dove ci sentiamo legati dove ci sentiamo impotenti. La lezione che quest'uomo ci ha voluto dare è che non bisogna demordere, bisogna andare avanti, lottare perché la vita è una giungla ma si può sopravvivere. Si può sopravvivere e si può cambiare il mondo come ha fatto lui in qualsiasi ambito, quindi non bisogna essere perfetti perché l'uomo non è perfetto ma si può cercare di raggiungere la perfezione lottando, lottando con se stessi, lottando contro il mondo e vincendo, vincendo grazie e soprattutto alla forza di volontà, forza di volontà che ha permesso a Simer Hawking di sopravvivere e di vivere, di cambiare il mondo come noi lo conosciamo per tutta la sua vita. Quindi è giusto secondo me ricordare quest'uomo ancora prima per la sua mente geniale, brillante, la sua immensa cultura e la sua importanza a livello astrofisico e non solo per l'insegnamento che ci ha dato e che molto spesso si sottovaluta il lottare, la forza di volontà, il non arrendersi. Può essere anche la situazione peggiore ragazzi ma non dovete arrendervi perché la vita, nonostante tutto, merita di essere vissuta. Bene, detto questo io vi saluto, volevo approfittare della purtroppo tragica situazione per cercare di focalizzare il punto centrale che la vita, come diceva Troisi, è bella e come diceva anche Benigni, la vita è bella e bisogna viverla, nonostante tutto. Bene ragazzi, vi saluto alla prossima, fate i bravi, mi raccomando, studiate ma soprattutto come ci insegna il grande Stephen, siate umani. Grazie, ciao!